L'importante è continuare a concentrarsi su una soluzione politica e io so che ci sono, sarei ingenuo se non facessi riferimento a differenze di opinioni fra i vari stati, incluso Italia e Francia, io penso che sia importante ed è il mio messaggio a questi stati, dovete lavorare insieme perché solo insieme si può trovare una soluzione al conflitto, pace per il popolo libico e poter lavorare anche per questi disgraziati che si trovano in condizioni molto difficili. Ci troviamo in Libia perché in Libia c'è una vasta popolazione, non sappiamo i numeri esatti, di rifugiati e migranti che si trovano in condizioni difficilissime, alcuni di loro, non tutti ma parecchi, chiusi in centri di detenzione dove le condizioni sono completamente inaccettabili, sono abominevoli, io ero in Libia in giugno, ne ho potuto visitare uno e sono sicuro che non era fra i peggiori e raramente ho visto condizioni di esistenza così miserabili e dure.